robert downey jr che ha interpretato il ruolo di tony stark alias iron man nei film degli avengers per oltre un decennio potrebbe presto assumere un ruolo completamente diverso il personaggio di dottor destino non solo aggiungerà attenzione alle storie marvel ma porterà anche a conflitti notevoli che derivano dalla personalità duplicata di questo personaggio dottor destino originariamente victor von doom è uno dei personaggi più intelligenti e potenti dell'universo marvel noto per la sua combinazione di tecnologia brillante e magia oscura la scelta di interpretare dottor destino potrebbe rappresentare non solo una sfida per downey ma anche per l'intero modo di raccontare del marvel cinematic universe mcu secondo fonti interne questa nuova direzione potrebbe aprire la possibilità di trattare diverse trame nei futuri film con dottor destino pensato come antagonista per le future produzioni degli avengers l'idea che downey possa apparire come dottor destino in un'eventuale confrontazione con gli avengers è vista come emozionante il personaggio del dottor destino si è evoluto notevolmente nel corso degli anni introdotto nei fumetti della marvel negli anni 60 è passato da un classico cattivo a una figura più complessa che non solo vuole proteggere la sua patria latveria ma anche ambizioni globali si riporta che downey desideri sfruttare l'opportunità di mostrare le diverse sfaccettature di questo personaggio complesso e di rappresentare dottor destino non solo come un cattivo ma anche come un eroe tragico in un'epoca in cui fan chiedono di più dai loro personaggi preferiti dottor destino potrebbe essere un'opportunità per conquistare un nuovo pubblico e esplorare la psicologia più profonda dei personaggi nelle storie marvel gli esperti credono che l'interpretazione di dottor destino da parte di downey possa portare una nuova dimensione nei film marvel la sua versatilità attoriale potrebbe consentire di presentare i conflitti interiori e la complessa moralità di victor von doom in modo rivelatore inoltre la transizione di robert downey jr da iron man a dottor destino potrebbe avere anche un impatto significativo sul panorama cinematografico rsi domenica 21 luglio